Figlioli, via gli utensili, voglio parlarvi un attimo di una cosa. Vorrei approfittare dell'occasione per dirvi che saremo presto sotto l'obiettivo dei media. Quindi se c'è qualcosa di cui mi volete parlare, questo è il momento di metterli in tavola. E se dite la verità a me e a vostra madre, non ci arrabbieremo. Ho nominato il nome di Dio in vano a scuola. Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non sono arrabbiato. Ok, bene. Quando c'è stata la visita allo zoo mi sono fatto leccare da una capretta al pisello. Ma, ma... Ma come si fa a far... Tesoro, hai promesso di non arrabbiarti, ok? Queste sono parole oneste. Una volta mi sono messo una lucciola nel sedere. Perché? Per farlo uccicare le scorreggie. Oddio santo!